Premio Internazionale Angeli di Luce nell'Arte 2017 Il 28 ottobre, nello spendito scenario del Parco dei Cimini a Soriano nel Cimino Viterbo, sul Sentiero Sacro degli Angeli Premio Internazionale Angeli di Luce nell'Arte 2017 La premiazione avverrà presso l'incantevole scenario dell'azienda agrituristica del Parco dei Cimini Bio Resort, immerso nella natura con le sue sfumature celestiali per un'intera giornata dedicata all'arte e una serata di grande prestigio dedicata agli artisti, poeti, scrittori e autori con le loro opere 28 ottobre 2017 Premio Internazionale Angeli di Luce nell'Arte 2017 Parco dei Cimini a Soriano nel Cimino Viterbo, sul Sentiero Sacro degli Angeli Un evento Flower Terry Production